Ciao a tutti, ciao a tutti e bentornati, bentrovati all'ottava, all'ottava puntata di Ci vuole un fiore. Ottava puntata significa ottavo giorno, ottavo giorno insomma, ottavo giorno di zona rossa e anche un saluto a tutti gli amici delle altre zone colorate di tutta Italia insomma. I colori stanno tendenzialmente avvicinandosi sempre più verso il rosso, dal giallo sempre più arancio ai noi sempre più rosso, ma va vai, noi andiamo avanti, andiamo avanti portando avanti, cercando di portare avanti fiducia, bellezza e gentilezza, cosa che ritroviamo e almeno personalmente ritrovo nei fiori ed è per questo che sono qua con Ci vuole un fiore e ogni sera a raccontarvene uno. Oggi in particolar modo vi voglio parlare di un fiore, di un fiore che parla d'amore, parla di gentilezza, parla anche di tanta tanta passione. Eccolo qua. Il signor Anturium, eccolo che io ne ho scritto tempo fa sul mio blog di questo fiore, di questo fiore è un fiore che sembra, che pare di plastica, no? Molti dicono ma mi piace perché sembra veramente, lo tocchi, sembra di plastica. Pensate questa natura, questo cavolo di natura, cosa riesce a fare a creare un fiore talmente perfetto che sembra finto, no? Sembra fatto, sembra artificiale, fatto dalle mani dell'uomo. In realtà no. In realtà guardate la bellezza di queste sfumature dal rosa al salmone fino al giallo ocra. Questa varietà la trovo bellissima, ma ce ne sono tantissime, sono varietà, ce ne sono tantissimi ibridi di tutti i colori, piccoli e grandi, persino viola, persino una varietà il cioco che adoro, che è quasi appunto color cioccolato, o il safari, un'altra varietà molto bella, bordeaux quasi con delle venature più chiare, insomma. A proposito di venature, guardate proprio le venature di questo fiore. Cioè si legge tutta la forza di questa pianta, si può vedere veramente e assaporare la bellezza, il calore dei tropici, no? Una zona dalla quale proviene. Chi ce l'ha in pianta, allora lo tenga ben illuminato, non a contatto diretto con il sole, ma in un posto ben illuminato, e tra un'innaffiatura e l'altra cercate di far asciugare un pochino la pianta. Nel terriccio, anche se aggiungete della corteccia, va bene, perché aiuta ad alleggerirlo, ha bisogno di un terreno soffice e ogni tanto un po' di concime liquido non fa mai male. Ma al di là dei consigli pratici, un fiore così, con uno stelo così lungo, meraviglioso, veramente ve ne basta uno, ve ne bastano due in un vaso in casa, per creare un angolo molto molto stilizzato, stiloso direi, con dei fiori che veramente hanno una classe, uno stile impagabile, no? Inavvicinabile, molto bello. Mi piace pensare, vi parlavo prima di passione, no? Perché questo, perché l'anturium è sinonimo d'amore, è sinonimo d'amore. Io mi immagino Cupido, un angioletto qualsiasi, così, alla finestra, che lancia, no? Nel suo arco lancia frecce d'amore, che le frecce sono gli anturium, che ce l'hanno, no? Che ce l'hanno questa forma, leggermente così, insomma, così la si può notare, esatto, no? Questa forma a cuore. E quindi lancia queste frecce d'amore ai passanti, che ignari si vengono colpiti e, paff, si innamorano. O magari, insomma, si sentono ben predisposti ad amare o ad essere amati, che anche questo è molto bello. Ed è curioso il fatto di colpirle. Cioè, mi piace questa lotta da balcone o questa piccola guerra d'amore da finestra a marciapiede, o, insomma, alla strada dove siete. Ecco, io, ad esempio, parlavo della pianta che ho a casa, che c'è un tipo 12 anni che è a casa, e sono 12 anni che continua a fiorire ininterrottamente, sempre 20-25 fiori costanti, continuano, continuano, continuano. Quindi, cioè, è una pianta che è veramente, si può dire, instancabile, generosissima. Un altro bel guerrigliero d'amore di quelli che piacciono a noi. Quindi, nulla. Chiamate, chiamate il fiorista, dite, portatemi ogni... Insomma, sarete ormai pieni di fiori in casa, però, quando avrete la possibilità, regalatevi un paio d'anturium o tre. Fate una bella composizione in un vetro, magari in un vaso di vetro alto, pulito, senza troppi ghirigori, con dentro dei fili d'erba un po' alti, dei ciuffi, fatevi consigliare dello steelgrass, del birro, delle foglie un po' lavorate, in modo che basta poco per rendere un angolo veramente interessante. Pulite sempre, chiaramente, il taglio, glielo dico sempre, il taglio del fiore, ogni giorno controllatelo, che sia bello bianco e in obliquo, e acqua fresca, sempre. Se vi è piaciuto questo video, di questo bellissimo fiore, vi ringrazio anticipatamente se avete voglia di mettere un like e magari anche di iscrivervi, perché no, al canale, in modo da continuare, poter continuare a seguire i miei video, che continuerò. Ora sono questi, ce ne saranno tanti, tanti altri. Ci vediamo domani, stesso orario, ci vuole un fiore? Ciao, a domani. Ciao, ciao.